Estorsione alla casa cinematografica Catleia per la produzione televisiva Gomorra la serie. Per questi motivi sono stati arrestati tre esponenti nel clan Gallo Pisielli. I rappresentanti della società sarebbero stati costretti a versare una somma ulteriore rispetto a quella pattuita da contratto per girare alcune scene a torre annunziata in un'abitazione di proprietà di uno dei parenti del capo clan Francesco Gallo, proprietario dell'immobile a Rione Peniniello, nel frattempo finito in carcere nell'ambito dell'operazione Mano Nera. Per queste riprese il corrispettivo concordato con Gallo era di 30.000 euro divisi in 5 rate da 6.000 euro, ciascuna.